Salve, appassionati del mondo automotive. Siete mai entrati in un'officina e vi siete chiesti quali sono i migliori carrelli di attrezzi che ogni meccanico desiderebbe avere? Bene, oggi su DS Tyres vi sveleremo la top 5 dei carrelli di attrezzi indispensabili per ogni lavoro in officina. Un buon carrello può fare la differenza tra un lavoro fluido e uno frustrante. E come sempre, ci concentreremo solo sul meglio del meglio. E se sei nuovo qui e condividi la nostra passione per tutto ciò che riguarda il mondo automotive, ti invitiamo a premere il pulsante di iscrizione proprio sotto il video. Entrando nella famiglia DS Tyres, avrai accesso a recensioni, guide e tante altre chicche dal mondo delle quattro ruote e dei motori. Alla quinta posizione della nostra classifica, si colloca il carrello da l'officina del brand Aribos. Ecco a voi un vero concentrato di funzionalità e design. Dotato di ben quattro cassetti, questo carrello è perfettamente equipaggiato con un set di 81 utensili. Realizzato in solido acciaio, presenta un piano di lavoro robusto e resistente ai graffi. E grazie alle sue guide a sfera e tappetini antiscivolo, potrete dire addio allo sferragliamento degli utensili durante gli spostamenti. Dimenticate i cassetti disordinati. Con Aribos, ogni strumento trova la sua precisa collocazione, garantendo un ambiente di lavoro sempre ordinato e sistematico. La sua flessibilità è assicurata da due ruote fisse e due girevoli, con clit di freno di bloccaggio. E con la sua pratica maniglia, lo spostamento diventa un gioco da ragazzi. Un particolare da non sottovalutare è il suo interlock system, una serratura che assicura tutti i cassetti contro aperture accidentali. E per una sicurezza extra, il design impedisce l'apertura simultanea di più cassetti, evitando così il rischio di ribaltamento. In quarta posizione, abbiamo un carrello che combina design e funzionalità, il masco. Un carrello da officina che non solo cattura l'occhio, ma risponde anche a ogni esigenza pratica. Con ben nove scomparti, il masco offre un'organizzazione ideale per ogni tipo di utensile. E grazie al suo attacco per valigetta rimovibile, potete mantenere i vostri attrezzi non solo ben organizzati, ma anche facilmente trasportabili. Parlando di robustezza, il masco è costruito per durare. Il suo corpo in acciaio massiccio e il piano di lavoro antigraffio lo rendono un compagno resistente per ogni officina. E con cassetti dotati di guide di scorrimento su cuscinetti a sfera, l'accesso agli utensili è sempre fluido e preciso. Dimenticatevi del fastidioso tintinnio degli attrezzi durante gli spostamenti. Con il rivestimento antiscivolo di masco, ogni utensile rimane esattamente dove dovrebbe essere. E per quanto riguarda la mobilità? Due ruote fisse e due girevoli con freno di bloccaggio rendono il carrello facilmente manovrabile in ogni situazione. E per una sicurezza in più, masco offre un meccanismo di chiusura centralizzata che permette di bloccare tutti i cassetti. E sì, sono incluse anche due chiavi. Alla terza posizione, incontriamo un nome iconico nel mondo degli utensili, Stanley, e il suo modello STM T174306. Una vera forza quando si tratta di capacità e resistenza. Con una straordinaria capacità di carico, questo carrello Stanley è costruito per ospitare una vasta quantità di utensili senza sforzo. Dotato di ben sette cassetti, questo carrello offre spazi ben differenziati, con cassetti completamente estraibili per garantire un accesso facile e completo ai vostri strumenti. E quando si tratta di mobilità? Grazie alle sue ruote robuste, di cui due pivotanti con blocco, spostare il carrello, anche quando è pieno, diventa semplicissimo. Stanley non ha trascurato la sicurezza. Una chiusura centralizzata mantiene i vostri attrezzi al sicuro e lontani da mani indesiderate. In seconda posizione, abbiamo il carrello degli attrezzi di Tectake, un vero concentrato di potenza in forma compatta. Grazie al suo assortimento estremamente vasto, questo carrello garantisce che ogni lavoro possa essere svolto rapidamente, in modo sicuro e ben eseguito. E parlando di maneggevolezza, ogni strumento è dotato di manici ergonomici e antiscivolo, garantendo una trasmissione d'energia ottimale. L'ordine e la sicurezza sono fondamentali. Con i suoi tiretti su cuscinetti a sfera, il carrello offre una chiusura centrale e un dispositivo di arresto per prevenire aperture accidentali. Ma non è tutto. Le rotelle massicce rendono questo carrello non solo robusto, ma anche estremamente maneggevole, assicurando che avrai sempre l'utensile giusto a portata di mano. E ora, signore e signori, sulla vetta del nostro elenco, troviamo un vero punto di riferimento per gli autoriparatori. La prima posizione è detenuta dal carrello Beta C24S7-O. Con ben sette cassetti montati su guide telescopiche a sfera, questo carrello offre spazi ben differenziati. Ogni cassetto è progettato pensando all'organizzazione, con tappetini di gomma espansa che proteggono e mantengono in ordine gli utensili. E la mobilità? Grazie alle sue quattro ruote di grosso diametro, due delle quali girevoli con un freno incluso, muovere questo carrello sarà un gioco da ragazzi. Il piano di lavoro in termoplastico non solo offre una superficie robusta ma è anche progettato per accogliere una serie di cassettiere Beta, ampliando ulteriormente le opzioni di organizzazione. Se sei interessato a queste recensioni e cerchi ulteriori consigli, c'è solo una cosa da fare. Premi il tasto di iscrizione proprio qui sotto. Entrando a far parte della nostra community di S-Tires, non ti perderai mai un aggiornamento, e potrai restare sempre al passo con le ultime novità del settore. Grazie per averci seguito, alla prossima!